Allo stato attuale nessuna nave o catamarano superiore a 80 metri di lunghezza può entrare nel porto canale di Pescara. A ribadirlo sono stati gli operatori commerciali del porto che contestano i lavori di dragaggio promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli operatori che sono venuti a conoscenza di una planimetria sui lavori in questione finora mai vista, ritengono che questi lavori non consentiranno alle navi di tornare al porto perché per arrivare nel bacino di evoluzione ad una profondità prevista di 6 metri tra le due banchine si dovrebbe passare sulla sabbia in un punto dove i fondali previsti sono pari a 3 metri e mezzo. Questi hanno detto oggi in conferenza stampa il pilota Leonardo Costagliola, Gianni Leardi, Marco Santori e Sabatino di Properzio sono fondali per pescherecci e le navi non entrano. Gli operatori chiedono quindi di spostare il bacino di evoluzione e di modificare la profondità dei fondali portandola a 6 metri nella zona che le imbarcazioni devono percorrere per arrivare a quest'area di manovra. Inoltre sollecitano un incontro con i responsabili del dragaggio per illustrare tutte le criticità emerse delle quali non era a conoscenza neppure la capitaneria. A tal proposito il comandante Pozzolano ha convocato per lunedì mattina un incontro con il provveditorato interregionale alle opere pubbliche stazioni appaltanti del dragaggio del porto di Pescara con la ditta che sta eseguendo i lavori e l'arta. Non conoscevo questa planimetria, commenta Pozzolano dicendosi amareggiato per l'accaduto e ritengo che sia stato improvvido metterlo in giro e consegnarlo a chi non aveva la titolarità. L'incontro è stato convocato per fare chiarezza e sgomberare il campo da qualsiasi dubbio.